Che cosa ci fai qui fuori Petruccio? Dovresti stare a letto Voglio quelle piume Per fare che? È un segreto Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto Sì, te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te i tuoi Ascoltate tutti! Sì Questa è questione Deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito. E ha bisogno di aiuto e il benvenuto. Perchè mi comportate qui? 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 Perchè mi comportate qui?